Benvenuti su notizienuclick.com, io sono Loredana per la lettura di oggi, giovedì 2 marzo, di alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato e che continueremo a pubblicare nel corso della giornata. Iniziamo con una notizia di Roveretto dove è stato il successo per la prima dello Winter School sullo sviluppo locale. Cospito dal Mastro Stato tuteli i magistrati, welfare e evangelisti, fare chiarezza sui titoli di studio dei rom e dei sinti. Per l'edilizia un editoriale del nostro dir politico Alessandro Zornotti verso un unico incentivo per uscire dal caos bonus. E l'ish lane verso il cambiamento nella sinistra italiana, ritocco o cosmetico. Per quanto riguarda l'estero, pescatore scomparso da due settimane, i suoi resti trovati nello stomaco di uno squalo, terremoto di Turchia e Siria. Al Tionite ne parliamo ancora approfondendo nell'articolo. Nato il Parlamento finlandese ha approvato l'ingresso nell'Alleanza Atlantica. Questo e molto altro potete trovare su notizienuclick.com, vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato e vi do appuntamento alla prossima rassegna. Buona giornata, Torridana!